Dal 2011 a 2021 in Veneto gli sportelli bancari sono diminuiti del 39,5% al di sopra della media nazionale che si attesta al 35,5%. Dieci anni fa erano 3.607 contro i 2.181 del 2021. Questi dati della Banca d'Italia, elaborati dal Centro Studi FIRST, sindacato bancario della CISL, che mostrano come negli ultimi cinque anni il nostro territorio abbia perso il 18% degli istituti di credito, mentre il 13% dei comuni è rimasto senza servizi bancari. Erano 544 quelli serviti da banche e nel 2011, dieci anni dopo, erano scesi a 473. Le banche tendono per questioni di costo ad esternalizzare o nella rete quelle che sono le loro attività, ma questo non sempre viene in conto alle esigenze del cliente. Le banche hanno puntato molto sulla comodità dell'accesso H24 via internet, però a questo non si affianca una sicurezza, tant'è vero che noi rivediamo ad esempio effetti di phishing bancario, cioè il fatto che la gente si introduca nell'identità bancaria delle persone. Questa evoluzione ha avuto conseguenze anche sul piano posti di lavoro, con una riduzione del numero di dipendenti delle banche a livello nazionale del 15%, ma anche i cittadini e le aziende risentono del cambiamento. Non vengono dati, in particolare ai pensionati, i quali erano abituati ad un certo modo di gestire la loro relazione con la banca, un servizio e anche per quanto riguarda le altre fasce di clientela, imprese piuttosto che altro, la cosa si presenta grave perché la relazione umana è comunque molto importante. Per Adiconsum è importante recuperare quello ruolo sociale che le banche avevano, soprattutto in un territorio come quello di Treviso e Belluno. Noi riteniamo che la banca, se ha una funzione sociale, deve avere anche un presidio territoriale, perché le due cose vanno assieme, in Veneto in particolare. Non possiamo fare a meno di questo, non possiamo non avere un territorio servito da una identità bancaria che conosce il territorio, questo è molto importante per Treviso e Belluno, perché l'abbiamo perso.